Ciao amici di Newly League, vediamo come state le gare odierne, in particolare la sfida fra Universi Cari e Moragans, quello scontro per evitare il cucchiere di legno fra Sette Colli e Hooligans, e infine la sfida per la zona playoff fra Invino Veritas e Getto Paris Hilton. Abbiamo fatto un'ottima partita settimana scorsa, oggi proveremo a far di meglio, gli avversari sono comunque tosti, hanno fatto più punti di noi, tutti hanno fatto più punti di noi, ma noi daremo sempre il massimo ogni partita, e speriamo di continuare con il gioco della scorsa volta, portando a casa dei punti. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!